Stutturalmente i caschi che usano i nostri piloti sono gli stessi della produzione di serie, perché sono gli stessi materiali, sono gli stessi modelli, sono le stesse omologazioni. Poi ovviamente il casco del pilota ha tutta una serie di personalizzazioni che sono indispensabili per quell'utilizzo così particolare, così esasperato. In primo luogo il fitting, il comfort, che è fatto su misura. Quindi ogni pilota ha le sue esigenze, ogni pilota ha le sue preferenze e i nostri tecnici costruiscono proprio un interno del casco che è fatto su misura per ogni singolo pilota. A volte poi ci sono delle particolari situazioni dove si va a fare della sperimentazione, per cui a volte i sistemi di ventilazione piuttosto che le visiere presentano a livello prototipale delle soluzioni tecniche che non sono ancora arrivate o che magari non arriveranno mai sulla serie. Però le corse servono anche a questo. Grazie a tutti.